La nuova generazione di MG Motor è in anteprima da Maldarizzi Automotive. La nuova ZS Hybrid Plus con il suo sistema ibrido inedito e la nuova MG HS disponibile sia in versione benzina che plug-in hybrid rappresentano un ulteriore passo avanti nel segmento dei SUV di media e grandi dimensioni. Le due grandi novità sono disponibili negli showroom di Bari, Lecce, Matera, Taranto e Trani di Maldarizzi. Per il lancio di questi due modelli sono stati organizzati due open weekend, il primo dal 19 al 20 ottobre e il dal 26 al 27 ottobre con la possibilità di provare su strada tutta la tecnologia avanzata e l'efficienza di queste due nuove MG. Con una percorrenza di 20 km con un litro e uno scatto da 0 a 108,7 secondi, il nuovo SUV compatto fa record di efficienza. Più tecnologia, più sicurezza grazie ai 14 sistemi MG Pilot di serie, più comodità con la funzione iSmart e i 30 vani portaoggetti. Design più moderno e accattivante, tanti più, per questo si chiama MG ZS Hybrid Plus. Maldarizzi compie quasi un anno, abbiamo accettato la sfida di arrivare qui nel Salento, inizialmente con il brand Skoda, ma poi abbiamo ampliato la nostra gamma e abbiamo accolto nuovi brand, Dongfang e nuovi veicoli di MG. Adesso vi presentiamo la nuova ZS e l'HS Hybrid e poi dopo il nuovo marchio Dongfang. Presentiamo la nuova ZS che non sostituisce la vecchia in quanto la versione precedente viene continuamente prodotta, ma soprattutto viene integrata con un sistema di propulsione completamente differente, che è in linea con quello che già abbiamo presentato mesi fa con la nuova MG3. Un motore Full Hybrid che noi abbiamo chiamato Full Hybrid Plus perché oltre ad avere tutte le dotazioni di un Full Hybrid, quindi una vettura estremamente brillante, potente, cambio automatico, soprattutto economicamente green, sia in termini di risparmio energetico sia in termini di emissioni di CO2, abbiamo una propulsione molto particolare perché permette di viaggiare fino a 80 km in totale trazione elettrica. E poi, grande novità, una vettura completamente rinnovata alla sua seconda generazione che è la nuova HS, cioè la Miraglia del DMG, una vettura di 4,60 metri con un frontale e un'estetica completamente rinnovata e soprattutto motorizzazioni, allestimenti e tecnologia in linea con quelle che sono le nuove indicazioni e le nuove aspettative dei nostri clienti. Se il sistema ibrido avanzato ad alta efficienza sorprende, la nuova MG HS incarna la perfezione di stile MG con una personalità dinamica e una qualità al top. Il design del profilo laterale conferisce al veicolo un senso di forza, mentre il montante flottante accentua la linea dinamica del tetto. Grazie all'ampia griglia surmontata da fari a LED affilati e all'avanguardia, la nuova MG HS affascina con la sua sportività. Gli interni sono progettati per offrire uno spazio accogliente per tutti i passeggeri e la disposizione orizzontale simmetrica della plancia crea una reale sensazione di spazio. L'uso di materiali morbidi e la cura dei dettagli regalano un'esperienza a bordo di prima classe. Dongfeng Motor arriva in Italia nel settembre di quest'anno con tre nuovi brand, Dongfeng, Voyat ed Emiro e sceglie Maldarizzi per la sua seconda preview a livello nazionale. Prima a Bari in occasione della Fiera del Levante e adesso qui a Lecce nella nostra nuova sede. La gamma di Dongfeng è caratterizzata da un'interessante innovazione da un punto di vista stilistico ma anche da un punto di vista della motorizzazione. Non soltanto autovetture elettriche ma anche autovetture con motorizzazione range extended, ovvero la possibilità di un motore termico che alimenta un sistema batterie a trazione integrale, una anteriore e una posteriore oppure solo posteriore, così da garantire alle proprie autovetture un'autonomia fino a 1500 km. Abbiamo poi l'Emiro che è veramente un capolavoro di tecnologia di derivazione militare che ha la stessa identica architettura motoristica, quindi motore benzina che alimenta un sistema di batterie con quattro batterie, una per ogni ruota, indipendenti, così da garantire all'auto la possibilità di venire fuori da qualsiasi situazione eventualmente di pericolo laddove fosse pericolo ma anche di divertimento laddove si volesse fare del puro fuoristrada e consente all'auto con dimensioni molto importanti di arrivare fino a 1000 CV di potenza e 900 km di autonomia. Siamo qui oggi quasi a un anno dalla nostra apertura, molto soddisfatti di quello che si sta realizzando sul territorio, avevamo promesso alcune cose l'anno scorso, cioè che avremmo aggiunto altri marchi e infatti anche oggi siamo qui a presentare questo nuovo marchio Dongfong che è un marchio di proprietà totalmente del governo cinese che ha delle auto, non devo dirlo io, bellissime che avrete avuto modo di vedere ma al di là di questo la cosa più importante è questa nuova tecnologia che si chiama Range Extended che porta l'elettrico fino a 1500 km. Questa è la grande novità e siamo sicuri che anche sul territorio leccese troverà una grande risposta. Il 26 e il 27 per la prima volta ospitiamo qui a Lecce il Maldarizzi Privé, sarà un evento di due giorni in cui ci saranno tantissimi sconti, giochi, musica, divertimento, qualcosa di interessante anche da stuzzicare. Vi aspettiamo numerosi per poter farvi vedere tutti i nostri nuovi brand e le nostre novità. Grazie a tutti.